Ragazzuoli, ragazzuoli, mentre navigavo su Libero.it vedo sta notizia eclatante, insomma da un titolo veramente eclatante, il professore tortura gli studenti, escalation di bullismo video shock, il professore tortura gli studenti, così è successo negli Stati Uniti sotto shock, gli Stati Uniti sotto shock, attenzione sotto shock, per un video in cui anche il professore si unisce a scherzi e violenze sugli alunni, allora io ho messo il video sotto, voi lo cliccate nella descrizione e andate a vedere, mi sembra un ammasso di persone che si stanno divertendo a prendersi per il culo, un po' organizzata, anche i bambini, i ragazzi, non è che il professore li ha attaccati al muro, li ha frustati, o gli dava schiaffi in faccia, come invece in Italia è successo in un video veramente shock, che è quello dell'asilo nido, dove le maestre prendevano a schiaffi i bambini per farli mangiare, gli trovano i capelli e quant'altro ancora, quello si che è un video veramente shock, penso che ve lo ricordate, no? Questi qua, di sto Libero.it, se ne affari italiani, mi mettono sti titoli esagerati, poi vedete dentro non c'è sto un cazzo, perché di contenuti praticamente zero, giusto che prendiamo, per vendere pubblicità, mettere sti titoli assurdo, il professore tortura gli studenti, video shock, andate a vedere sto video shock, non dico che sia normale questo video, però non dico nemmeno che è shock, shock, ma vaffa, ma c'è io lo so, dovevamo fare i giornalisti ragazzi, le guante menate potevamo fare, alla prossima!